Gigi a tutti ragazzi, sono Elien e oggi sono qui per darvi qualche piccolo suggerimento su come tentare di prepararsi per l'arrivo del re dei corrotti, previsto il 15 settembre alle ore 11 di mattina, ore italiane. Ora, sappiamo che oggi dovrebbe uscire la patch 2.0, intorno alle 19 credo, che cambierà parecchie cose, quindi chissà, magari potrebbero esserci correzioni a quello che sto per dirvi in questo video, cercherò di tracciare velocemente una linea generale su cosa cercare di fare. Passo 1, le armi quali portarci? Beh, contate che ci saranno tante nuove armi dal re dei corrotti in poi, armi che a livello di potenza, in senso di danni inflitti, batteranno alla grande le nostre armi attuali, per intenderci le armi anno 1 leggendari e anche esotiche. Appunto, per le esotiche ci saranno alcune portabili a livello luce massimo, cioè quelle che si potranno evolvere all'anno 2, altre invece resteranno all'anno 1, quindi non saranno portabili a livello massimo luce. Comunque, esotiche e leggendari a anno 1 saranno sempre utili nel crogiolo dove il livello non conta, mentre in osiride e standardo di ferro la cosa cambia. Oltre chiaramente a poterle continuare ad utilizzare per tutte le attività PvE anno 1, tipo volta di vetro, crota e prigioni. Ora, quando logheremo oggi a partire dalla patch 2.0, tutte le esotiche nel nostro inventario ci faranno guadagnare automaticamente le ricette per craftarle, per produrle direttamente dalla collection. Ci daranno anche le ricette per l'anno 2 in automatico, che potremo craftarci grazie ai marchi leggendari, ma non penso potremo craftarci prima del 15 settembre. Comunque, quindi, mi raccomando, non scartate nessuna esotica. Per le leggendarie, come ho detto, quelle anno 1 non saranno portabili, oltre un certo livello luce, che non sarà comunque sufficiente per le attività che conteranno davvero nel gioco, quindi lasceranno pian piano lo spazio che trovano. Tenetevi comunque le armi primarie con danni elementali, tipo parola di crota, zanna di riut, visione di confluenza e sorte fatale. Tenetevi anche il nero martellante, mentre per le altre armi, beh, cercate di capire quali sono le migliori leggendarie che usate nel crogiolo. O suggerimento, pellegrino, saltellante o messaggero, se ce li avete, mi raccomando, non scartateli, sono fucili ad impuzzi. Tecnicamente potrebbero essere le armi rivalazioni del prossimo PvP. Stesso discorso per le armature, non solo in ottica PvP. Tenetevi quelle armature che vi permettono di avere le statistiche al punto giusto, tipo intelligenza e disciplina, o anche quelle armature che vi danno dei bonus particolari durante un'attività di un certo tipo, magari le armature che vi forniscono aiuto durante crota o le prigioni. Punto numero due, le risorse. Grazie al venditore dell'avanguardia vicino a Amanda, la venditrice di Astronavi, potremo scambiare le parti di armature di classe, tipo cavo di zaffiro, placature di acciaio, eccetera, in modo da avere il nuovo materiale per gli upgrade delle armature. Un materiale unico che si potrà applicare a qualsiasi armatura di qualsiasi classe. Quindi, chiaramente, non scartate i vostri materiali. Ovvietà, certo, ma non si sa mai. Per le strane monete, cerchiamo di conservarne quante più possibili, perché comunque non sappiamo cosa venderà Xur prossimamente. E a meno che gli acquisti non siano forzati, come vi ho detto negli ultimi episodi di Xur Presenta, cerchiamo di tenerne quante più possibili. Vi ricordo che Xur venderà un oggetto chiamato Tree of Coins, che aumenterà la possibilità, per breve tempo, di droppare esotici dai boss in generale. Magari costeranno appunto strane monete, chi lo sa. Le strane monete non si dropperanno più negli assalti settimanali, perché il classico assalto della settimana verrà tolto per lasciare spazio ad una playlist che ci darà marchi leggendari invece, cioè assalti settimanali eroici. Il Calanotte invece rimane. Ma Bungie ha detto che sarà comunque più semplice droppare le strane monete, ci saranno altri modi. Ora, particelle di luce, tenetele, daranno anche più esperienza in generale utilizzandole. Allora, cercate di non sprecarle facendo reforging o comprando engrammi esotici, almeno per il momento. Andiamo al risparmio. Lumen, cerchiamo di tenere le nostre disponibilità finanziarie quanto più alte possibili. Se avete oggetti in inventario, tipo standardi del casato, o comunque oggetti che vi regalano soldi, non usateli, teneteli da parte. E adesso passiamo al discorso marchi crogiolo e avanguardia. Vorrei chiarire questo punto che ho notato ha portato un po' di confusione in giro. Allora, a partire dalla PS2.0, cioè da oggi, quando l'avrete scaricata, sarà possibile scambiare i nostri marchi avanguardia e crogiolo con gli encomi di fazione. Cosa sono gli encomi di fazione? Sono degli oggetti consumabili che se spesi vi danno 250 punti fazione ad oggetto. Ci sono quelli avanguardia e quelli crogiolo. Ogni 50 marchi, quindi crogiolo o avanguardia che abbiamo, riceveremo un encomio rispettivamente, un oggetto dell'inventario. Insomma, quindi se abbiamo 200 marchi crogiolo, avremo 4 encomi crogiolo, che corrispondono a 1000 punti fazione. Quindi se abbiamo 200 marchi avanguardia e 200 marchi crogiolo, riceveremo 8 encomi, quindi per un totale di 2000 punti fazione da spendere. Ora, parliamo un attimo dell'esperienza e della luce concentrata. Come sappiamo, dal 15 settembre in poi il livello massimo sarà 40. Si potrà arrivare tramite l'acquisizione di esperienza durante il gioco e non saliremo più in base al nostro equipaggiamento. Già dalla patch 2.0 di oggi potremo arrivare al livello 34 solo con esperienza e non in base alle armature che abbiamo. Comunque, per cercare di aumentare al massimo tutta l'esperienza acquisita e prenderci botte di XP una dietro l'altra, potete lasciare le vostre missioni crogiolo, avanguardia, Eris, quello che è, a patto che non siano taglie esotiche, già completate. Quindi finite le missioni, ma non consegnatele. Lasciatele così nell'inventario, quindi avremo potenzialmente 10 slot di missioni da poter riempire. Potete accumulare i pacchetti che riceverete al completamento di un evento pubblico, quindi potete anche, che ne so, farmarvi gli eventi pubblici. Ricordatevi di visitare www.destinypublicevents.com per avere una più chiara idea di dove e quando si svolge un evento pubblico. Ricordiamoci che se ne possono accumulare massimo 20 di pacchetti e decidere di usare poi, tutto questo da 15 in poi, la luce concentrata, ovvero un oggetto acquisibile tramite l'acquisto di un'edizione particolare di Red Bull non vendibile in Europa, ma che molti di noi hanno, che per 30 minuti aumenta del 50% tutta l'esperienza ricevuta. Quanto guadagnereste così? Non ne ho idea. Quello che posso consigliarvi, ed è un consiglio che condivido con Datto, è di sbloccarvi almeno la terza sottoclasse con la missione di storia corrispondente, sempre da 15. Una volta sbloccata la sottoclasse, allora potrete usare tutta l'esperienza accumulata, perché in questo modo, completando tutte le quest che avete avuto modo di conservare, usando tutto quello che avete detto prima, farete chiaramente salire tutta l'esperienza di sottoclasse nuova molto prima. Per quanto riguarda invece i pacchetti, come per esempio pacchetti fazione, criptarca o engrammi in generale. Allora, assodato che un engramma di qualsiasi natura, droppato prima del 15 settembre, vi darà per forza di cose oggetti pre-15 settembre, così come anche in teoria ciò che trovate nei pacchetti di reputazione e fazione, ma non sono invece sicuro per quelli del criptarca. Comunque il mio consiglio è, assodato questo, non aprite i pacchetti engrammi e quant'altro prima del 15 settembre. Perché? Perché aprendo i pacchetti prima riceverete sicuramente oggetti anno 1. Se li aprite dal 15, al 99% riceverete oggetti anno 1. Ma magari c'è quell'1% che può fare la differenza, chi lo sa? Male che vada, riceverete le stesse cose che avreste ricevuto comunque prima. Tentar non nuoce. Per gli engrammi invece, quando decodificate un engramma, riceverete reputazione criptarca. Tanto vale, spendere al 15 settembre così da farvi salire la reputazione in quei giorni, e quindi praticamente farvi fare un grado in più per la reputazione criptarca, che a quel punto vi darà un pacchetto criptarca che conterrà sicuramente engrammi anno 2, e quindi insomma fate un po' voi. Ultima cosa per le taglie esotiche, ve lo ripeto, tutte le taglie esotiche acquisite prima della patch 2.0 saranno autocompletate, quindi che ne so, se avete quella della cool in corso non abbandonatela. È una cosa che appunto vi ho già detto nei giorni scorsi. Ora, questi sono consigli, sono piccoli accorgimenti, non sono regole, non sono cose da fare per forza, tipo che se non le fate siete la gente scema. No, assolutamente no. È solo una preparazione da fare nel tempo libero, sono piccoli bonus insomma. Dimenticavo, con l'update 2.0 arriva la reputazione dell'armaiolo, con la quale potete prenotare i pacchetti dell'Arms Day. Vi consiglio caldamente di passare dall'armaiolo oggi, quando arriverà la patch 2.0, e fare le sue taglie, quindi almeno uno degli slot delle taglie completate, in teoria, lo dovrete sacrificare. Quindi, vabbè, non muore nessuno comunque. Mi raccomando anche a gettarvi nel crogiolo. Testate il nuovo P.U.P. e giocate Fratture Pandemonio, perché chi lo sa, magari, si possono anche droppare le armi nuove nel crogiolo, come accadde la settimana prima del casato dei lupi, se ve lo ricordate, no? Questa la sto sparando, non si sa mai. Comunque giocateci, o tentarlo a nuoce. Bene, amici miei, è tutto per questi piccoli consigli. Prima di lasciarvi vi mostro uno spezzone della Top 10 Multikills che ho avuto il piacere di commentare per The Tower Dest in Italia. Vi lascio il link in descrizione per vedere il video. Se volete farvi due risate, vi consiglio di vederlo. Grazie per essere stati in mia compagnia. Alien vi saluta. Love and peace. Iniziamo dalla posizione numero 10, siamo su PS4 e siamo in compagnia di Egrimoldi, che ci mostra i vantaggi dello schiacciare i propri avversari. Hulk spacca! Nel vero senso della parola direi, non è rimasto nessuno, solo cenere. That came from the moon.